e benzi ragazzi sono G.Bark e sono qui oggi a mostrarvi quella che è la stella di questa settimana qua il tesoro di questa settimana qua infatti la sfida di questa settimana è cerca tra una stazione di benzina un campo da calcio e una montagna per gli stunt, cioè per le stunt ragazzuoli, prima di partire però ci tengo a salutare tre persone che hanno messo mi piace ragazzi ho iniziato a seguirmi su Instagram che sono ragazzi tra l'altro per chi non mi segue vi lascio qua sotto il mio nome su Instagram le ultime tre persone sono Giorgio Miha YouTube, Mick031306 e GabriPanic che hanno messo mi piace all'ultimo mio video direi che possiamo partire però ragazzi vi ricordo di lasciare almeno 50 like direi che possiamo partire semplicemente col video allora ragazzuoli come potete vedere qua la settella di questa settimana qua si trova molto vicino a Pleasant Park infatti come vedete qua sto indicando il campo da calcio qua c'è visto per indicare il benzinaio e qua successivamente la montagnola dove solitamente ci sono i carrelli e quelle robe del genere infatti il punto della stella si troverà esattamente in quel punto lì come vedete qua con la triangolazione si troverà esattamente lì perché si trova sempre all'interno del triangolo formato dai tre oggetti che si trovano regà triangolino tutta la vita come vedete mi sto buttando esattamente nel punto esatto in cui lo troverete se può variare di qualche metro non lo so comunque se varia vi lascio qua sotto nei commenti il posto esatto così che nessuno faccia fatica a trovarlo vedete che può bastare così ci vi chiamo direttamente al prossimo video bella ragazzuoli bella ragazzuoli bella ragazzuoli